La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Restiamo ancora in questo ambito servizi e consulenza per premiare l'eccellenza dell'anno Innovazione System Integrator, settore ICT. Il premio va a Sky Solution Group. Ed eccoli dal fondo che ci raggiungono. Capiamo anche il perché del riconoscimento naturalmente per essere un leader in grado di rispondere al mercato ICT con elevate efficienza e competitività, mettendo al servizio della propria clientela un approccio innovativo e attento alle esigenze e ai trend del mercato. Buonasera, complimenti bravissimi. E anche qui, Manuel, altre parole che si aggiungono. Efficienza e competitività. Assolutamente. Poi le esigenze dei trend, ai trend del mercato. Grazie. Buonasera. Siamo in compagnia di Daniele Rossi, presidente e CEO di Sky Solution Group. Benvenuto. Grazie. Dottor Rossi, innanzitutto mi congratulo per la vittoria di questa sera e le chiedo subito un commento. Beh, intanto ovviamente sono molto onorato e con piacere accolgo la promozione, questa premiazione che ci riempie d'orgoglio perché abbiamo ovviamente fatto degli sforzi notevoli per raggiungere certi risultati e ci siamo impegnati. La società ha risposto alle sfide del mercato e quindi è un piacere e un onore essere qui e ricevere il premio per questa attività che abbiamo svolto nel corso del 2021, ma insomma che continua anche nel corso e continuerà nel corso dei prossimi anni. Ecco, ci racconti un po' di Sky Solution Group e anche del ruolo che gioca nel settore dell'information technology. Sì, Sky Solution Group è una società per azioni che ha come obiettivo quello di portare soluzioni, tecnologie abilitanti e innovazione nel mondo dell'information technology, da cui troviamo spunto e da lunghi anni insomma ci dilettiamo nella ricerca di nuove tecnologie e di nuove soluzioni per rendere fruibile quelli che sono i servizi che avrò raggiunto e cercando anche di digitalizzare un po' questo paese e le aziende, sia soprattutto della pubblica amministrazione ma anche del mondo privato, noi ci dilettiamo, ci prodighiamo per portare innovazione e digitalizzazione a tutto tondo, per creare efficienza, cost saving, quindi contenimento dei costi ma appunto dare un servizio migliore alle aziende e ai fruitori, quindi ai cittadini. Se si parla di banche chiaramente si parla di clienti e se si parla di pubblica amministrazione si parla di servizi ai cittadini, quindi noi ci siamo e cerchiamo di dare il nostro meglio e a quanto pare ci stiamo anche riuscendo. Ecco, appunto, le chiedo proprio quali siano i fattori di successo che hanno anche determinato la vostra crescita negli anni? Certamente, la domanda è interessante, i fattori di successo sono determinati da tanti aspetti, da tanti fattori tra l'altro, la conoscenza, per cui il know-how, la capacità di integrare soluzioni innovative ma con sistemi e strumenti esistenti, quindi un'integrazione che porta sempre un vantaggio perché si consolidano le tecnologie esistenti dando una spinta all'innovazione, quindi alla digitalizzazione, quindi alla dematerializzazione, tutte quelle che creano poi appunto efficienza, contenimento dei costi e miglior servizio ai cittadini. In questo settore noi operiamo a quattro fattori, su quattro settori principali e macro-industriali che sono appunto l'ICT, quindi Information Technology, con tecnologie di proprietà e di terze parti perché noi siamo un system integrator che però ha una connotazione molto, come dicevo, spinta all'innovazione e alla costruzione di strumenti, quindi software, anche di alcuni componenti hardware proprietari in modo che possiamo integrare terze parti e nostre soluzioni proprietarie e sviluppi per portare alla fine un prodotto finito, end-to-end al cliente finale. Le macro-aree su cui ci muoviamo sono appunto l'ICT, per cui il Data Center, il mondo tradizionale di Information Technologies, la Cyber Security, quindi la sicurezza a tutti i livelli, sia perimetrale che logica di sistema, la parte di Elker, cui tutto uno sguardo alla sanità, abbiamo un reparto che si occupa appunto di digitalizzazione e di trasformazione digitale nel mondo della sanità, con molte innovazioni in questo settore e poi la Digital Transformation c'è anche quella di cui si parla un po' in questo periodo tutti, che è appunto la capacità di trasformare concetti, diciamo, un po' vecchi in tecnologia e miglioramenti di processo, oltre che di tecnologia. Ecco, quali sono le strategie di Sky Solution Group per il futuro e che tipo di azienda vuole diventare? Sì, noi abbiamo quest'anno attuato una riorganizzazione forte, ci siamo guardati, ci siamo confrontati e poiché stiamo entrando in un territorio più sfidante, possiamo fare un parallelo col calcio, stiamo andando a fare un campionato di Serie A o la Champions League magari, e quindi abbiamo dovuto attrezzarci, rinnovandoci, riorganizzandoci, rivedendo anche un po' le strategie, quindi in modello di business e la go-to-market, insomma, in modo con cui si va dai clienti finali. E questo ci ha permesso di essere attrattivi per il mercato, per i nostri clienti, ma anche innovativi e propositivi e in linea con i trend del mercato, quindi con la necessità delle aziende e dei clienti finali. Dove vorremmo arrivare e come vorremmo essere? Sì, ci stiamo appunto attrezzando anche per questo, noi vogliamo essere un'azienda inclusiva dove si rispetta la diversity, si spingono concetti di armonizzazione, per cui un posto di lavoro dove si lavora volentieri e si fa anche del sano business e con tanto brainstorming, per cui tanta volontà di confrontarci noi stessi e noi e la nostra squadra con i clienti finali e con il mercato. Questo porta sempre a fattori di successo perché si concertano e si condividono dei passaggi tecnologici, ma non solo tecnologici, ma anche proprio di innovazione e di processo, quindi di metodo, che se condivisi sicuramente portano a risultati migliori e si raggiungono obiettivi molto sfidanti.